E' stato condannato all'ergastolo il 28enne Cristian Ioppolo, il giovane messinese accusato d'aver ucciso la sua compagna, 29enne, Alessandra Musarra, nell'abitazione della vittima incontrata a Campolino di Santa Lucia Sopraccontesse a Messina. Il delitto venne commesso nel mese di marzo 2019 alla vigilia della festa della donna. La Corte d'Assise gli ha già inflitto la pena del carcere a vita. Il PM Marco Accolla aveva richiesto a giudici e giurati il 21 aprile scorso, dopo un'ora e mezza di requisitoria, il massimo della pena per il giovane. Nel fine settimana scorsa è arrivata la condanna. Prima della sentenza l'aula dell'Assise è stata dedicata all'intervento del difensore di Ioppolo, avvocato Alessandro Billet. Giudici e giurati hanno stabilito una serie di risarcimento in sede civile e provvisionali, numerose le parti civili tra parenti della vittima e associazioni che hanno preso parte al processo. Era il 7 marzo, quando il corpo della 29enne messinese venne trovato senza vita nella sua abitazione in un villaggio di periferia della città di Messina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe strangolato la fidanzata. Una vicenda che provocò un forte scalpore non solo a Messina, anche perché il delitto avvenne poche ore prima della festa della donna. Anche Alessandra si stava preparando a festeggiare la ricorrenza, come aveva comunicato lei stessa sui social. Una mano criminale però ha spento per sempre il suo sorriso e i suoi sogni. Le indagini della squadra mobile di Messina, coordinate dalla procura, hanno subito portato al fidanzato della ragazza. I sospetti degli inquirenti sono caduti su Cristian Ioppolo, il quale aveva iniziato una relazione con la vittima da circa un anno. Dopo l'interrogatorio in questura venne formalizzato il fermo. Da allora il giovane è ristretto in carcere, adesso per lui la pena è l'ergastolo.